Oh scusa, cos'hai detto a Mr. Sarri per farti giocare finalmente nel tuo ruolo? Ma sinceramente non gli ho detto niente, lui da un grande allenatore ha capito quello che era il mio ruolo e mi ha chiesto di fare delle cose che io ho cercato di fare nei migliori modi, ma io non gli ho detto niente, ha capito tutto lui. E gli altri torciano, gli ho fatto un'altra cosa? Che ne so, devi chiedere a loro? Roberto vai!